di avere l'endometriosi e subito dopo che avevi subito anche un altro tipo di intervento per un tumore se non sbaglio. Sì ma infatti è stato il problema dell'endometriosi è proprio questo che è difficile diagnosticarla perché perché siamo abituate a soffrire ma andiamo giù e diciamo vabbè e non ci dicono almeno prima si faceva molto meno io l'ho scoperto che avevo 30 anni fortunatamente adesso c'è più attenzione si è capito che è una malattia molto diffusa per cui spero che ci sia più ricerca e sicuramente attenzione perché non solo rischi di non poter avere un bambino ma è dolorosissima è veramente dolorosissima come malattia per cui tu quanti interventi hai dovuto subire otto otto caspita sì tanta roba e psicologicamente che cosa comporta questo tipo di malattia tante paure un senso di colpa perché io avevo il senso di colpa di essere esagerata pensavo di me stessa di esagerare per cui mi tenevo questo male terribile e ero totalmente ferro priva perché hai questi cicli che non finiscono mai però stavo zitta non dicevo niente mi sembrava di essere colpevole di qualcosa in realtà di di avere un problema che purtroppo non ha a tutt'oggi soluzione per assurdo dicono che la gravidanza sia una cura ma in realtà non è una cura è semplicemente che metti a riposo per un periodo produci adesso non sto a fare la lezione però in quel periodo lì stai bene infatti questa questa mia sensazione che poi raccontavo di stare benissimo non era soltanto una cosa psicologica era anche una cosa fisica io finalmente stavo bene perché non avevo queste questo malessere queste perdite questo questo dolore ho passato il sette mesi e mezzo più belli della mia vita perché poi che è nato prima è nato prima e i tuoi compagni come hanno diciamo come hanno preso in considerazione la tua malattia allora la prima volta che l'ho scoperta 30 anni non bene proprio non bene anzi ci fu proprio una fuga a addirittura si è stata una brutta esperienza proprio una brutta esperienza sapere che ti dicono che stai male e in quel momento la persona che dice di amarti e che tu ami va via proprio per la paura di affrontare la malattia è brutto tanto però ho superato pure quella sei provoca anche molto dolore anche durante il rapporto può dare dolore l'endometriosi per cui ci vuole ci vuole santa pazienza ma i tuoi compagni quindi non tutti sono stati comprensivi perché poi sembra che fai l'ho detto questa cosa del delle femmine che fanno i capricci e quelli non sono capricci quello è una cosa che fa veramente molto male che ti spossa e che ti dà degli sbalzi d'umore